Che fine fanno? I fratelli del cerchio, attraverso Andreina, a cura di Vubbi, domanda Che fine fanno i nostri pensieri col sopraggiungere della morte? Fino a che punto restiamo consapevoli di essi? E quanto può la paura della morte condizionare la nostra consapevolezza? Risposta Da sempre il passaggio da una forma conosciuta ad una di diversa conformazione e di diverso spessore Si porta dietro tutto lo strascico di ciò che ne ha fatto parte Come dei veli leggeri e variamente colorati Ne rivestono la personalità che ancora accompagna per un tratto il viaggiatore Niente cessa di esistere nel tutto Così i pensieri e la forza vitale, che si trasformano in componenti di diversa natura Seguono le necessità della nuova condizione I pensieri, come li conoscete ora, sono solo embrioni di sentire È come assistere ad un film Ad una rappresentazione immaginaria della realtà Al contrario dello sperimentare la realtà concreta senza illusione Quando la transizione avrà fatto sì che la paura sia superata Rimarrà la consapevolezza e in questo stato i pensieri Saranno trasformati o sublimati nel sentire È un passaggio naturale, quindi non può essere evitato È fondamentale per l'intima comprensione Non può essere evitato perché solo sperimentandolo su se stessi Lo si può comprendere E la comprensione è una acquisizione fisiologica